amici di battista 70 phone a grande richiesta ho installato anch'io la rom del g3 la claudi versione 1.0 sul mio lg g2 allora partiamo subito col dire che è tutto completamente funzionante parte telefonica fotocamera qualcuno mi ha detto che non funzionava il flash io ieri ho fatto una foto al buio e il flash è scattato in automatico senza nessun tipo di problema l'autonomia è rimasta la medesima non ho notato variazione la ricezione telefonica anche quella a mio parere non ha subito nessun tipo di variazione né in meglio né in peggio quindi vabbè diciamo che come era rimasto e non ho visto problemi vediamo un po interfaccia rimane molto fluida l'unica cosa che pecca sono un po queste icone tutto tondo e poi le icone non non sono state modificate risultano essere quadrate diciamo che crea un po di come dice l'amico viscardi un po di distonia diciamo potete vedere anche qua sopra c'è la nuova tendina delle notifiche molto carina molto funzionale e le icone sono tonde andiamo a vedere subito le impostazioni per dare un'occhiata andiamo nelle generali vi faccio vedere il tipo di rome che ho impostato info sul telefono informazioni sul software come vedete è la claudi g claudi g3 1.0 poi vi spiegherò anche settimana prossima magari farò un tutorial scritto su come installarla vi dicevo la nuova interfaccia come potete notare abbiamo un nuovo orologio qui sopra vi da anche le notifiche il cielo sarà sereno oggi la temperatura rimanerà in modo significativo quindi sì e poi dopo avanti andiamo a cliccare dovrebbe scorrere ora se non ricordo se andiamo a cliccare eccolo qua quindi si consiglia di vestirsi conseguenza vabbè poi qui di fianco abbiamo lg holt è un contapassi fissato un obiettivo ad esempio 10.000 passi e poi a fine giornata vedete se lo raggiungete e avete diciamo la le calorie consumate riepilogo giornaliero potete programmare il tipo di esercizio potete registrare la traccia ad esempio di te che fate di corsa e andate a fare un giro vi registrate la traccia che avete fatto oppure con altre cose pattinaggio in linea ciclismo o quant'altro diciamo che non è paragonabile ai solte però comunque ha una buona funzionalità e qui abbiamo tutti i vari smart tips vi vengono spiegati quick circle dual window che poi andremo a vedere quad hd display ovviamente qui non c'è smart bulletin per diciamo i memo la fotocamera che poi vi farò vedere ci sono delle variazioni knock code possiamo impostare il knock code con i quattro tocchi smart notice l'avete visto smart keyboard anche questo è molto interessante da vedere e il west mode praticamente qui vi fa un po vedere quali sono diciamo le chiamiamole novità ora possiamo tornare indietro andiamo a vedere subito la fotocamera come ben sapete la fotocamera avrete visto l'anteprima del g3 è stata per così dire semplificata sono state tolte un po di modalità che erano reputate inutile la velocità di scatto a mio modo è migliorata scusate ho schiacciato il video comunque vi dicevo la velocità di scatto è davvero migliorata ad esempio andiamo a fare uno scatto lì è partito il video vabbè e come vedete è l'acquisizione immediata mette a fuoco immediatamente e c'è un'acquisizione davvero molto molto rapida devo dire che è migliorata rispetto a prima andiamo a vedere qui scusate i modi i modi ora sono solo quattro automatico magic focus quello per fare il defocus panorama e la doppia ripresa ora di default è già impostato praticamente un hdr diciamo intelligente andiamo a vedere qui abbiamo l'hdr auto 13 megapixel andiamo a vedere e come vedete nella modalità fotocamera è stata introdotta la registrazione u hd praticamente 4k dopo pomeriggio vado in piscina con i bambini ho intenzione di fare qualche foto qualche video di modo che poi avremo la possibilità di vedere se in effetti il software della fotocamera è migliorato almeno da quello che ho letto si le foto hanno un'acquisizione una messa a fuoco più veloce quindi devo dire che è stato fatto un buon lavoro poi potete vedere avete la modalità slow motion modalità hd full hd classica o hd oppure potete fare le foto i 10 megapixel 8 megapixel varia hdr auto l'acquisizione con con la voce insomma c'è da dire che la fotocamera sembra sembra è stata semplificata e da quello che ho letto ripeto dovrebbe essere anche migliorata come qualità ben sappiamo che il software di acquisizione su questi aggeggi su questi oggetti fa diciamo la maggior parte perché non avendo delle lenti particolarmente curate se così vogliamo dire ovviamente la parte software fa molto ok vediamo prima come funziona il dual window tenete premuto come vedete abbiamo tutte le icone dei vari programmi che ci sono proprio tutti non dobbiamo fare altro che tenere premuto ad esempio mettiamo il browser sopra e la galleria la mettiamo sotto ok diamogli il tempo di aprire il tempo che si apre e come vedete avete a disposizione sia il browser che la galleria e potete decidere se ingrandire rimpicciolire uno o l'altro ora perché non devi funzionare ok come vedete avete la possibilità ad esempio voglio ingrandire uno o l'altro tengo premuto scusate ogni tanto si inceppa ok eccolo qua devo riuscire a centrare bene il pallino ok era colpa mia bene una volta centrato il pallino potete decidere come strutturare tanto che ci siamo visto che siamo qui andiamo a vedere la nuova tastiera cancelliamo la cronologia anche se non cose strane ok come potete vedere la tastiera ad esempio io l'ho impostata molto grande però abbiamo la possibilità di cambiare la misura andiamo nella tastiera ora facciamo un back ok torniamo indietro torniamo indietro andiamo nelle impostazioni della tastiera generali lingue di immissione ok tastiera lg andiamo nell'impostazione la lingua di output l'altezza e layout e la tastiera questo è molto interessante qui potete decidere quanto è alta la tastiera oppure comunque potete cambiare immissione vocale scrittura a mano il tema della tastiera insomma poi magari andate a vederlo perché ce ne sono veramente tanto ci metteremo un'ora l'altezza della tastiera una cosa molto intelligente voi potete decidere quanto farla grande se ad esempio volete ingrandirla al massimo oppure volete rimpicciolirla al massimo dipende che tipo di mani avete come vi trovate comode io ho deciso di mettere un'altezza abbastanza grande perché va beh comunque il testo è lì però a me va di avere una tastiera piuttosto grande e vediamo come scrive come vedete io non sono un fulmine a scrivere aveva sicuro perché di solito scrivo con un dito solo infatti lucio mi prende in giro però come vedete è davvero molto funzionale e vi dicevo potete decidere a che altezza farla io ho deciso l'altezza e quello oppure il tema della tastiera potete cambiarlo o bianco o nero va beh in questo caso il tema è tutto bianco la lascio bianco perché almeno qualcosa rimane in in sintonia con il resto potete dividere la tastiera aprendola utilizzo con una mano per avere la tastiera da una mano da una parte dall'altra diciamo che sulla smart keyboard è stato fatto veramente un un bel un bel lavoro è stata implementata veramente bene andiamo a vedere un po che altre impostazioni ci sono vabbè sulle reti niente di particolare solite impostazioni chiamato wifi robe varie suono i profili del suono la modalità silenziosa le suonerie suoni notifica al tipo di vibrazione vibrazione al tocco effetti sonori niente di particolare il display abbiamo la possibilità va beh ovviamente di selezionare il launcher abbiamo la home oppure la easy home tema lg anche come ha provato l'amico nicolò questo non si scarica ho provato anch'io probabilmente ne arriveranno altri di di temi che saranno scaricabili l'effetto dello scorrimento delle pagine potete definirlo lo scorrimento continuo per averlo scroll in continuo potete avere fare anche il backup e ripristino della home io nel mio caso ho fatto un backup della della mia home di modo che se dovessi fare un art reset qualcosa comunque mi rimane il mio backup e una volta ripristinata mi ritrovo la home come l'avevo messa prima io sono uno che dedica un po di tempo a sistemare la home quindi diciamo avere un backup a disposizione non è assolutamente una una brutta cosa e qui sotto avete la guida se volete un attimino vedere il tutto blocca schermo potete impostare vari tipi di blocca schermo saliziemento l'effetto dello scorrimento qua e c'è anche come vedete il knock code potete utilizzarlo con ad esempio quattro tocchi tre tocchi in quattro tocchi dovrebbe essere come volete io ho lasciato due tocchi perché se poi mi dimentico devo andare a mettere il pin di sicurezza e tutte stemenate potete mostrare i widget potete personalizzare i vari collegamenti vabbè un po tutte le cose che penso c'erano prima informazioni di contatto per il telefono perso potete mettere sulla schermata ad esempio se trovate questo telefono chiamate il tanto non lo farà nessuno prova vabbè voi l'avete fatto insomma diciamo che è molto personalizzabile pulsanti a sfioramento possono essere cambiata la metodologia oppure possono essere incrementati fino a 5 direi che per il momento 3 possono bastare possiamo nascondere i tasti a sfioramento cambiare il tipo di carattere dimensioni della carattere ovviamente luminosità led rotazione in termini auto schermo l'effetto della dello spegnimento insomma come potete notare veramente è stato fatto un ottimo lavoro scusate volevo andare nell'ultima pagina nelle generali lingue missione abbiamo visto posizione gli vari account cloud accesso felicitato facilitato felicitato vabbè dai utilizzo con una mano il tasto di scelta rapida sicurezza modalità ospite i vari movimenti che si possono impostare rispondere a le chiamate in arrivo sono riandesolvenza le chiamate in arrivo in attesa vabbè poi dopo ve le vedrete diciamo sono poche ma sono quelle diciamo che a mio parere rimangono più utile la possibilità di utilizzare la custodia quick circle però giustamente non è programmata per per il g2 non è in dimensione g2 quindi vabbè è inutile data ora poi archiviazione nell'archiviazione vedrete anche che sotto c'è impostata la sd perché sul g3 c'è e qui no però vabbè comunque questa è la rom del g3 vabbè diciamo c'è qualcosa in più sembra qualcosa in più qualcosa in meno insomma fondamentalmente ragazzi funziona veramente tutto tutto bene non ha nessun tipo di problema andiamo a vedere come funziona il multitasking in questo momento potete mettere l'applicazione in dual window direttamente da qua potete andare a chiuderle ad esempio facciamo cancello tutto abbiamo ripulito il tutto poi ci sono i tasti hanno la doppia funzione questa abbiamo visto al dual window qui se teniamo premuto appare il classico menu quindi se abbiamo bisogno di andare nell'impostazione impostare la schermata omel blocco schermo perché aggiungere applicazioni widget lo possiamo fare direttamente da qua se tengo premuto qui ovviamente vado su google now e abbiamo i risultati dei mondiali io soprassederei per oggi direi che non è il caso di parlare di di calcio diamo un'occhiata vediamo un po quando andiamo cliccare sul meteo si apre c'è una bella animazione già di suo possiamo vedere il meteo oggi oppure nei quattro giorni pioggia un'altra volta è a lei ma che è quest'anno vabbè qui potete aggiungere una città potete andare a regolare le varie impostazioni aggiornamento tre ore io lo metto un'ora modifica la lista di città l'unità di temperatura unità di velocità del vento come potete vedere molto carino widget vabbè semplice niente di particolare vi dicevo qui sotto escono i vari smart tips vi da le indicazioni seguendo il meteo ed altre cose insomma vi ripeto per essere una release 1.0 davvero eccezionale abbiamo vado di vedere io ho provato diversi porti sono una cui piace smanettare ma devo dire che una rom 1.0 così non l'ho mai vista ah poi qui altra cosa bella potete regolare anche la grandezza delle icone mostre con le piccole oppure mostre con le grandi io ho messo alcune grandi perché mi piacciono di più mentre sulla home le preferisco piccoline come come queste poi vedete le file sono 5 non sono 4 per cui rimangono un po più piccole nel drawer mi piace avere le icone abbastanza grandi come vedete anche qua scorrimento continuo massima fluidità insomma devo dire veramente non me l'aspettavo lucio insistito tanto e metti sta rom metti sta rom poi alla fine quando finito di ritirare con quei maledetti driver che io ribadisco rimane sempre la cosa più difficile da installare da far funzionare mi sono deciso l'installata e devo dire che sono soddisfatto il mio g2 ha cambiato completamente faccia mi sembra di avere un altro smartphone e come vi dicevo nel pomeriggio in piscina sono proprio curioso di provare questa fotocamera e la ripresa in 4k per vedere come come realmente è poi nei prossimi giorni se scoprirò qualcos'altro ve lo farò sapere se ho dimenticato qualcosa scusatemi ma le cose da dire sono veramente molte e la sto provando da ieri pomeriggio ripeto nessun tipo di bug zero assoluto funzionamento completo anche come avete visto delle delle nuove features con questo concluso un saluto da lori sales battista 70 per battista 70 da fuori